Buonasera cari amici di Focus, che ascoltate le letture delle parole e delle guide del Cerchio Firenze 77. Come sempre ringraziamo tanto Enrico Ballantini che ci ospita su questa piattaforma di Focus 3.0, il mistero della vita, e ringraziamo anche Anna Tamburini-Torre che ha voluto questa Università della Conoscenza e che ci permette così di condividere le parole dei maestri. Riprendiamo la lettura dal volume Oltre l'Illusione, a pagina 125, del fratello Claudio, che ci introduce un pochino al mondo del sentire e ci fa capire la differenza fra l'io e il sentire, fra ciò che noi consideriamo sentimento e ciò che invece è il sentire che va oltre questa condizione e cerca in qualche modo di farci intravedere di che cosa possa trattarsi. Vi devo però dire che questa sera non potrò rispondere alle vostre domande perché questa è una registrazione, sarà anche una registrazione molto breve, ma voglio comunque mantenere il filo con voi, quindi leggerò queste due paginette di Claudio commentandole brevemente e vi rimanderò invece ad un appuntamento successivo dove sarà invece possibile anche rispondere a qualche vostra domanda. Inizia Claudio parlando del vero sentire, dice, molti di voi pensano che il progresso conduca gli uomini alla realizzazione di se stessi, che il regno di Dio sia una perfetta organizzazione sociale in cui tutti i bisogni degli uomini trovino pronto a pagamento. Sappiate invece che ciò che è conosciuto come realizzazione dell'uomo, vita del superuomo, non appartiene al mondo dei fenomeni e della percezione. Il mondo della percezione è il nostro, noi viviamo nella convinzione che la realtà sia questa, nella quale avvengono i fatti, gli eventi, i fenomeni appunto, le cose si trasformano, dove c'è uno spazio da attraversare per raggiungere qualcuno e dove scorre il tempo. Questo è il mondo dei fenomeni della percezione che non è la realtà e ciò è il modo con cui noi viviamo in maniera molto limitata la realtà che è ben più vasta di questo. Che cosa significa questo, dice Claudio? La percezione si fonda sul gioco dei contrari, la luce e l'ombra, il caldo e il freddo, il bene e il male. Secondo la personalità che rivestite siete attratti ora dalla vita spirituale, ora da quella materiale, ma appena avete raggiunto un estremo, subito il suo opposto vi richiama a sé. Così giaccete preda del conflitto dei contrari. E non comprendete che la realtà sta al di là, sì, del male e dell'odio, ma anche del bene e dell'amore intesi come opposti di qualche cosa. Capite? Noi viviamo questa nostra realtà presi da questo gioco degli opposti. Siamo sempre omersi gli opposti. Intanto partiamo da un dato, cioè che ognuno di noi si sente un io e che considera tutto quanto lo circonda il non io. E quindi c'è un soggetto che percepisce e percepisce ciò che sta oltre questo soggetto. Quindi siamo dentro la dualità, è la nostra forma di esistenza, una forma molto limitata, ma che vive di questi opposti fra di loro. Se mi avvicino al bene mi allontano dal male, o viceversa, se mi avvicino al male mi allontano dal bene. A noi servono gli opposti per vivere questa realtà così divisa, così separata. Dice ciò che è sperimentabile in se stesso e nel suo contrario appartiene al mondo dei fenomeni e della percezione. Solo l'essere, l'esistere non ha contrari. nessuno può sperimentare il non essere, il non esistere, il nulla. Ma arduo è spiegare che cosa intendiamo per sentire, sentirsi d'essere. Tanto arduo quanto inutile forse. Solo chi l'ha provato può comprendere. Taluni lo sogliono paragonare o definire come amore nella sua forma più elevata di altruismo. Ed in effetti il sentire è una lucida constatazione di essere uno con tutto quanto esiste e perciò è assimilabile alla spinta altruistica che infiamma certe creature. Ma quando noi parliamo di altruismo, nella stessa parola altruismo c'è l'altro. Quindi ci sono io e c'è l'altro. Io posso amare l'altro, andare verso di lui, aiutarlo, ma è sempre l'altro, è separato da me, è distinto da me, è distante da me. Per quanto io mi possa avvicinare non è mai me stesso, c'è sempre qualche cosa che ci divide. L'altruismo quindi è solo una pallida ombra di quello che è il sentire dove invece tutto è riunito in maniera uguale, omogenea. Ma a questa, alla spinta altruistica, la spinta altruistica a paragone del sentire è una pallida sensazione. Sinché si è presi dal conflitto dei contrari, sinché il senso dell'io esiste, si è nella separatività che crea i molti. La separatività crea i molti, separando esistono i molti. Più si supera questa separatività, più il concetto di molti. Allora si chiama amore, quella spinta verso gli animali, le persone, il divino, ma se si pensa agli altri, sia pure per far confluire ad essi tutto il proprio anelito di bene, il proprio amore, come ad essere distinti da sé, non si ha quel sentire di cui noi vi parliamo. Il vero sentire non conosce cose, né persone, né soggetto e oggetto. Capite bene che è quasi inconcepibile per noi che viviamo proprio tra le cose, le persone, che siamo oggetti dell'altrui osservazione e che come soggetti osserviamo gli altri. Non è amore verso gli altri o verso tutti, ma è un'interezza in cui non v'è separazione, l'io non può esistere in una condizione del genere. Il sentire è un'estasi in cui si è tutt'uno con gli altri, in cui è totalmente trasceso il mondo dei fenomeni, dei contrari, della percezione, in pratica il nostro mondo così come noi lo viviamo. Superamento della separatività. Ultimamente abbiamo affermato che l'amore altruistico è quel sentimento che più si avvicina al sentire del quale amiamo parlarvi. In tale sentimento infatti vi è il travalicamento dei confini della separatività, del tuo e del mio. Si può dire che lo scopo di tutte le umane esperienze in ultima analisi sia quello di superare il senso di separatività. Qui noi siamo incarnati per imparare a superare il senso di separatività e tutto quanto questo senso crea. Che cosa crea il senso di separatività? Solitudine, invidia, gelosia, avidità, brama di possesso. L'io è costantemente impegnato in queste attività, costantemente. Guardare con quegli altri che hanno di più, cercare di ottenere più per se stesso, cercare di stare sempre meglio, di rafforzare la propria posizione, di sentirsi sicuro, di fare. È sempre l'io al centro delle nostre attività che vuole accrescere se stesso. Quanto più ci si aggrappa alle distinzioni create dall'io e più si creano cause di sofferenza. La nostra futura esistenza non è la continuazione infinita di noi stessi, che è un'illusione, ma l'eternità in cui non vi è separazione tu e io. È un sentire che non conosce distinzione, particolarità. Udendo queste parole voi ne siete tormentati perché temete che l'unione col tutto equivalga all'annullamento degli esseri. Perché voi cercate, che cosa? La moltiplicazione nel tempo del io sono. E non comprendete che l'unione col tutto è invece la realizzazione del proprio essere, che è l'essere di tutte le cose. Perciò una tale realizzazione è impersonale e onnicomprensiva, non può essere fondata sulla personalità. Questa realizzazione non comporta un attutimento della coscienza, ma semmai una sua esaltazione per il suo espandersi oltre i confini del tempo e dello spazio, del tu e dell'io. Quindi molto più vasto dei confini proposti a noi dall'io. Liberazione come affrancamento dall'io. Sareste voi capaci di descrivere a chi non fosse dotato di senso olfattivo che cosa è un profumo o che differenza c'è fra un profumo e l'altro. E più ancora, descrivendoli, suscitare negli altri le gradevoli sensazioni indotte dai buoni odori. Credo che nessuno potrebbe fare questo. Ma non potremmo neanche cercare di descrivere un profumo a una persona facendoglielo sentire anche se quella persona fosse una dotata di senso olfattivo, perché è praticamente impossibile fare questo. Così noi non possiamo farvi provare la vita del sentire semplicemente parlando. ma se ve ne parliamo è per polarizzare la vostra attenzione sulla possibilità di un'esistenza diversamente dalla condotta vostra, al di là delle convenzioni che vi condizionano, al di là degli schemi e delle limitazioni disegnate dall'io, perché l'io delimita moltissimo la nostra esperienza. Noi crediamo che questa sia la realtà, ma è una realtà limitata appunto dall'io. Ma voi non dovete credere che una tale esistenza sia raggiungibile in un'altra dimensione o in un altro tempo, che la liberazione avvenga in altri piani di esistenza o in un'epoca futura. La liberazione della quale vi parliamo non è un affrancamento dalla contingenza, ma dal vostro io. Cioè non ci dobbiamo sottrarre a ciò che stiamo sperimentando, ciò che è contingente per noi, ma possiamo cominciare a interpretare questa realtà in un altro modo, non secondo gli schemi egoistici dell'io. dal vostro io, dal limitato e convenzionale modo di concepire la vostra esistenza. Essa significa abbandonare i rigidi schemi che vi condizionano per dischiudervi all'eterno e all'infinito, quantomeno come pensiero, come concetto, come possibilità. Tale liberazione si realizza come nella costante consapevolezza delle azioni, dei desideri, dei pensieri. Quindi osservando se stessi nel mentre che viviamo le motivazioni che ci spingono, i desideri che stanno dietro le nostre azioni, essendone consci nel presente, cioè proprio nel momento in cui li viviamo, vivendo l'attuale, non considerandosi paghi del passato, non rinviando al futuro. Una coscienza costretta nello schema io, non io, non potrà divenire una con ciò che è senza principio, né fine, né divisione. Ponendo la vostra attenzione al di là dei confini creati dall'io, è raggiungere una nuova dimensione della realtà nel modo più vero, perché è l'unico, che è quello di ampliare la propria coscienza, raggiungere un nuovo sentire. È bellissimo questo, è veramente bellissimo. Dov'è quella frase che volevo rileggervi? Adesso non la trovo, però sostanzialmente quello che ci spingono a fare i maestri è conoscerli noi stessi, in profondità. Questo ci permette di cominciare a vedere la realtà in un modo nuovo e di schiudere dentro di noi una porticina che ci permette di cominciare a pensare in termini di realtà diversa, la possibilità che l'esistenza sia qualcosa di diverso da quello che ci sembra essere, costretti come siamo dentro le leggi dell'io. Ci rivediamo fra un mese circa. Buona serata.